Ciao, grazie, è stato davvero un piacere, davvero, sì. Ma ti ha approcciato questo ragazzo? Sì, 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 come hai visto è stato anche molto carino, direi. Sì? Ma che cosa ha fatto di diverso dagli altri? Beh, semplicemente ha parlato, direi, cioè proprio senza mostrare troppe cose estetiche, avere troppi schemi, ecco, sì, a volte i ragazzi pensano che le ragazze vogliano semplicemente il classico fisicato oppure la persona che... Gli dà una stabilità? Sì, con gli status economici che si pensa che le ragazze vogliono, ecco, sfrattiamo questo mito, le donne non vogliono questo, vogliono la sostanza, le donne vere vogliono la sostanza, poi il resto. Quindi, diciamo che consiglieresti questo tipo di approccio ai ragazzi? Beh, direi proprio di sì. Ok, grazie mille, ciao. Ciao.